ed eccoci questo lutago, c'è la prologo, adesso andiamo un attimo sul ponte però ti dà un bel venticello, i gradi sono al 29 ho visto che bellezza aspetta che giro un attimo bello vittorio, finalmente il nostro ponte, sei stanco? andiamo a dormire il nostro ponte dei sospiri ti l'ha detto che manca l'acqua, eh ghiacciai, no, mamma mia ghiacciai sono diminuiti tanto, tantissimo alla nostra casetta, questo è l'appartamento che abbiamo prenotato, non c'è nessuno bellissimo, poi ve lo faccio vedere dentro, ecco la signora salve, ci vediamo dopo bellissimo, bello qui ci sono i prodotti offerti dai padroni di casa l'abbiamo già scaricato, wow, carino, molto carino questo cazzo ci siamo sedi già due anni fa, adesso l'abbiamo riprenutata perché è troppo carina l'abbiamo appena il nostro paio l'abbiamo appena l'abbiamo appena l'abbiamo appena l'abbiamo appena